Benvenuti, due parole velocissime prima di lasciare ovviamente la parola a Renato. Mi presento, sono Ferriano Sanzano e rappresento l'APP Group, che insieme a Tattica, rappresentata dall'avvocato Simone Veneziano alla destra dell'artista, sono i produttori e organizzatori di questo bellissimo evento. 6-0. Il 29 partiamo, partiamo con questa bellissima avventura. 8 concerti, ne avremmo voluti fare di più. Ci siamo adeguati a quelli che erano degli accordi già presi con il Comune. Sul comunicato vado via velocissimo, poi torneremo dopo sulle parti tecniche, perché più giusto lascio la parola a Renato. Oltre 90.000 biglietti venduti, questo divertente gioco della Zero Casa, che praticamente ne abbiamo qui dei campioni, che abbiamo già fatto vedere alcuni vostri colleghi, con alcuni di voi che sono presenti oggi nella prima conferenza stampa. Oltre 30.000 zero car vendute, quindi comunque con una dimostrazione di aspetto da tutta Italia. C'è pubblico che arriva da tutte le parti, abbiamo cercato di distribuire biglietti su tutto il territorio. L'area che è passata la vista è un'area imponente, bellissima. Saranno 12.000 posti totalmente seduti, a sedere, quindi comodissimi e vedranno tutti molto molto bene. Io lascio subito la parola a Renato.